Buongiorno a tutti amici e buona domenica. Allora, ieri si è giocato Sassuolo-Inter, partita vinta dal Sassuolo per 1-0 e ho notato con mio grande stupore, mica tanto, che si sono svegliati tutti i palladini della giustizia. C'è gente che non parlava di Inter da mesi, si è svegliata. Anche gli interisti stessi, insomma, che hanno commentato sotto al mio video, avrei qualcosa da dire. E adesso dico le mie cose agli interisti che hanno commentato e ai non interisti, perché mi riferisco soprattutto a quelli lì. Allora, gli interisti che mi hanno commentato, ma no Gianluca, non devi dire queste cose, non è vero che la partita è combinata, cioè che è stata venduta, eccetera. Allora, io ho aperto un canale per dire le mie opinioni e non è che perché sono interista se noto una cosa non la debba dire. Per me, la partita di ieri, ho detto venduta per rendere il ragionamento, per rendere l'idea, non voglio dire che è venduta, ma state certi che se l'Inter serviva quella vittoria per vincere lo Scudetto, l'Inter la partita l'avrebbe vinta. E su questo ci metto la mano sul fuoco. Poi, nel proseguire del video, ho detto, l'Inter non è che si è venduta la partita, ma non ha messo tutto per cercare di vincerla. Cioè, il secondo tempo, il secondo tempo di Sassuolo Inter, l'Inter non crea una palla a gollo. Mi volete far credere che una squadra che segna da 42 partite, che è così forte, che ogni partita crea tante palle a gol, non riesce a crearne una contro il Sassuolo penultimo in classifica che sta prendendo gol a destra e a manca? Non è credibile come cosa, ma anche come atteggiamento dei giocatori, non è credibile. Io che seguo il calcio da oltre 20 anni, queste cose non me le bevo. Quindi, se dico delle cose, è perché ho notato certe cose. Poi uno può essere d'accordo, può essere non d'accordo, però il fatto di essere tifoso dell'Inter non è che mi impedisce di raccontare la realtà. Ok? Altrimenti commettiamo degli errori. Ma mi voglio riferire soprattutto ai paladini della giustizia, cioè i tifosi gemellati, gobbi e rossoneri. Perché questi gobbi e rossoneri che si sono messi a parlare di Sassuolo Inter come partita scandalosa, vergognosa, campionato falsato, corsa salvezza falsata... Allora facciamo un esempio. Se ieri al posto dell'Inter ci fosse stata una squadra che, come l'Inter, non ha più nulla da chiedere a questo campionato, tipo Monza, Genoa, prendiamo il Genoa. Se ci fosse stato Sassuolo-Genoa e il Genoa non avesse giocato al 100%, e il Sassuolo quindi avrebbe vinto la partita. Voi credete veramente che questi qua si sarebbero adirati in questo modo contro la falsificazione della lotta salvezza? No! No! Vi rispondo io no! Perché a loro della lotta salvezza non frega nulla! Non importa nulla! Loro prendono il più piccolo spunto per andare contro l'Inter. Ieri c'era Sassuolo-Inter, una partita che l'Inter ha giocato senza motivazioni e quindi si attacca l'Inter. Ma loro, della partita in sé, della corsa salvezza in sé, non frega nulla! Tra l'altro questi fenomeni si sono svegliati ieri, i palladini della giustizia si sono svegliati ieri. Però quando due anni fa lo stesso Sassuolo si vende palesemente, lì possiamo parlare di partita venduta, la partita contro il Milan all'ultima giornata, lì non ho mica sentito questo senso di giustizia così forte. Non ho visto mezzo video contro la credibilità del campionato. Non ho visto niente di tutto questo. Soltanto video celebrativi per lo scudetto del Milan, per carità, come giusto che sia. Però nessuno che si adirava perché il Sassuolo si era venduto la partita, dopo 20 minuti subisce 3 gol, concede 10 palle gol. Nessuno diceva niente. Era tutto normale, eh? Quindi, cosa voglio dire io? Che io da tifoso interista nel video l'ho detto, l'Inter non ha giocato al 100% e non ha giocato nemmeno al 50% per una questione di motivazioni. Cioè i ragazzi venivano da 10 giorni di festeggiamenti. È normale che arrivi a questa partita scarico, senza motivazioni, non c'erano nemmeno tutti i titolari. È una cosa normalissima che succede in ogni campionato, soprattutto quando una squadra vince il campionato ad aprile. L'anno scorso, l'esempio più vicino, il Napoli. Il Napoli vinceva tutte le partite, l'ultimo mese aveva già vinto il campionato e cominciava a perdere punti. Ma è una cosa normale che succede sempre. Anche la Juve, quando vinceva gli scudetti a marzo-aprile, cominciava a perdere punti. C'è una cosa che succede sempre, sistematicamente, ogni anno. E questi qua, quest'anno, si sono svegliati. Ehi, lotta salvezza falsificata. Succede sempre. Sempre. Questo per dire che quando criticate l'Inter non siete credibili. A differenza mia che nel video l'ho detto che non abbiamo giocato nemmeno al 50%. Voi criticate soltanto perché c'è l'Inter. Ma in altre occasioni, quando la Juve vinceva il campionato ad aprile e perdeva punti, non dicevate mezza parola. Quando il Sassuolo ha regalato la partita al Milan, non si è detta mezza parola. Il Napoli l'anno scorso, l'ultimo mese, cominciava a perdere punti, come ovvio che sia, come succede sempre. Non dicevate mezza parola. Quest'anno, succede all'Inter, eh però marotta così colà, eh però la corsa salvezza così colà. E dai, un po' di credibilità nelle critiche. No, perché voi parlate di credibilità del campionato italiano che non è mai stato credibile come quest'anno, visto che c'è una squadra a più 20 dalla seconda, se parlate di credibilità del campionato italiano devono essere credibili prima le critiche, le vostre critiche, altrimenti è un cane che si morde la coda. Cioè, se si prende ogni piccola cosa per cercare di screditare o di criticare l'Inter, ma state prendendo proprio gli aspetti più sbagliati. Perché, ripeto, questa è una circostanza che si verifica ogni campionato e non c'è niente che tu possa fare. Ma non succede solo all'Inter. Perché anche il Monza, che non ha più niente da chiedere, è normale che se va a giocare con un Frosinone, con un Empoli, che sono squadre immotivate per la salvezza, non è che si vende la partita, ma gioco forza e meno motivato. Quindi è probabile che perderà la partita, come è successo ieri all'Inter. Poi è chiaro che se l'Inter era motivato, se l'Inter serviva alla vittoria per vincere lo Scudetto, è normale. In quel caso l'Inter dava il 100%, il Sassuolo dava il 100%, ma tra due squadre che danno il 100%, solitamente vince la più forte. Ma qui stiamo facendo la scoperta dell'acqua calda. Quindi, insomma, questi sono discorsi veramente ridicoli, che mi fanno rire. Cioè, una cosa che si verifica ogni anno, questi qui si sono svegliati quest'anno. Ah, l'Inter così, marotta con lì, ahiaiaiaia, quanto è brutta l'invidia. Cioè, io pensavo che le vittorie dell'Inter facessero rosicare, perché era evidente, ma non fino a sto punto. Cioè, la gente si inventa qualsiasi cosa pur di andare contro l'Inter. Ho sentito gente dire che l'Inter meriterebbe una penalità per la partita che ha disputato ieri. Ma io ho visto di peggio. Perché l'Inter, dopo che è andata sotto nel punteggio, comunque le occasioni per pareggiare le ha avute. Dunfriis che si mangia un gol a porta vuota, che è colpa della partita venduta, è perché sotto a porta è lo Scarpara. Poi, Sanchez ha avuto una bella occasione e consiglia gliela a parata. Il gol dell'1-1 l'abbiamo fatto. Lautaro Martinez, gol annullato per fuorigioco di mezzo metro. E quindi, di cosa stiamo parlando? Le partite veramente vendute sono altre. Si può dire che l'Inter non abbia giocato al massimo delle proprie potenzialità. E questo è sotto gli occhi di tutti. Però da qui a dire combi in partita venduta, cioè siamo proprio su altri livelli, siamo su altri pianeti, dichiarazioni dettate da un livello di rosticamento veramente elevato. E ripeto, pensavo che le vittorie dell'Inter facessero rosticare, ma che arrivassero al punto di far perdere la totale lucidità. Questo non me lo aspettavo. E va bene ragazzi, un saluto a tutti, buona domenica, appuntamento a stasera per il post partita Roma-Juventus. Ciao!